Un anno del reparto Covid a Polla, un anno in cui la sanità valdianese è scese in campo direttamente a tutela della comunità che sin dalla prima ondata è risultata particolarmente colpita dai contagi, dovendo purtroppo contare anche numerose vittime della pandemia. La realizzazione di un'unità operativa che potesse occuparsi direttamente delle persone affette da SARS-CoV-2 ha però consentito al territorio di avere una marcia in più in questa difficile battaglia. Questa mattina il consigliere regionale Corrado Matera, che insieme ai sindaci e referenti della sanità locale si è impegnato all'epoca rivestendo il ruolo di assessore regionale affinché anche Luigi Curto potesse avere un reparto per curare i pazienti Covid, ha voluto ricordare quei giorni che a poche settimane dallo scoppio della pandemia in Italia aveva visto il Vallo di Diano individuato zona rossa e area ad alto rischio mortalità. Eravamo impreparati, ricorda Matera, preoccupati per la nostra gente, coscienti che non vi era un minuto da perdere. Era necessario mobilitarsi ed intervenire tempestivamente. Ricordo quella mattina di un anno fa, quando insieme al compianto e amico Rocco Giuliano, agli amici Mandia, Di Candia, Pica, De Angelis, Rubino e Loviso, decidemmo di allestire presso il presidio ospedaliero di Polla, un'area Covid attrezzata. Un progetto realizzato in pochissimo tempo, ricorda il consigliere regionale tegianese, grazie anche alla fattiva collaborazione di tutti, partendo dal direttore generale dell'Asra di Salerno, Mario Iervolino, e con la condivisione dell'iniziativa dei sindaci del territorio, in primis del sindaco di Sala Consilina Cavallone, di Atena Lucana Vertucci, di Caggiano Lamattine e di Auletta Pessolano. La grande competenza del personale sanitario del Curto di Polla ha poi fatto il resto, insieme alla Marce in Più, offerta dagli imprenditori del Vallo di Diano, che hanno mostrato vicinanza e sostegno all'iniziativa e alla proficua collaborazione dei volontari ed in particolar modo dei ragazzi della protezione civile. Grazie alla determinazione di ciascuno, ricorda Matera, riuscimmo a dimostrare di essere un territorio unito, capace di fronteggiare anche una guerra mondiale a cui può essere paragonata a tutti gli effetti questa pandemia. Un risultato, sottolinea il consigliere regionale, deve dedicare anche a Rocco Giuliano, che pur in condizioni di salute precaria è sempre stato in prima linea e non si è mai sottratto per tutelare la propria gente e la propria comunità. Il territorio ha bisogno di questi esempi, ricorda Matera, ha bisogno di unità e non di divisioni per affrontare e vincere insieme nuove sfide.